Bene amici, sì l'ho lanciato e l'ho preso perché è veramente leggero, mi è piaciuto un sacco questo Galaxy Book S perché è molto leggero, ha una batteria che dura una vita, guardate quando lo apro perfettamente bilanciato si sblocca in un attimo con l'impronta digitale, è subito acceso, io sono due giorni che non lo apro e guardate sono Always On, una batteria che dura tantissimo, poi entrerò nel dettaglio e questo essere Always On così reattivo e così subito pronto è perché al suo interno batte un cuore arma quindi non piattaforma x86 e vi ho già fatto praticamente recensione, un pezzo di ferro, un hardware che mi è piaciuto un sacco ma limitato dal fatto che per questa architettura ci sono ancora, non dico poche applicazioni, pochi programmi che girano ma non girano tutti, facciamo un passo indietro, ve lo racconto, molto sottile, 11,7 mm spessore qua una tipo C3.1, esce il video, entra l'alimentazione, ovviamente qua c'è la sua simmetrica, si può usare una o l'altra e poi il jack per le cuffie, meno di un chilo il peso, 970 rotti grammi, avete visto la scheda tecnica belli materiali perché sopra è in metallo, vi dico bilanciato e non flappo il display quindi anche quando siete in macchina, in treno non è che è di quei bilanciati che poi cadono ma in realtà è un buon bilanciamento, una bella tastiera retroilluminata ma soprattutto quello che vi dicevo prima, subito pronto un bellissimo display da 13,3 pollici in full HD allora già che ci siamo vi parlo proprio del display faccio girare questo video che è il solito io l'ho messo ovviamente in full HD per mappare uno a uno lo schermo e come vedete gira molto bene YouTube vi faccio vedere l'angolo di visuale sia su questa angolazione sperando che la camera mantenga il fuoco sia da quest'altra angolazione e come avete visto bello, è lucido, è molto luminoso ovviamente qua ci sono le scorciatoie rapide vediamo se sono al massimo della luminosità no non lo ero, sono adesso al massimo della luminosità e vi faccio vedere anche come gira con le applicazioni che si utilizzano quotidianamente perché vi dicevo prima non tutte le applicazioni qua riescono a girare scusate che metto in pausa ok, YouTube Word, ovviamente Word funziona perfettamente voglio dire è Microsoft e anche Microsoft fa il Surface Pro X con questa architettura ma mi è piaciuto meno, poi magari vi racconterò il perché quindi nessun problema con le applicazioni Office di tutti i giorni vi faccio vedere lo speed test ma prima vi faccio vedere anche magari come gira Netflix perché Netflix gira tranquillamente forse no, sì, ero io che scacciavo click ecco qua e devo dirvi che anche il trackpad è molto buono perché il dito scorre veramente bene e anche l'audio, sentite quanto è potente nonostante gli altoparlanti siano messi sotto perché sono qua, vedete, in queste due fessure ma devo dire che non essendo a contatto con la superficie anche se è una superficie particolarmente assorbente come questa si sente molto molto bene chiudiamo Netflix vi potrei far anche ascoltare Spotify è giusto per farvi vedere cosa va e cosa non va e anche come gira in generale ripeto, l'audio è eccezionale anche la stereofonia è molto buona anche i bassi ci sono nonostante sia un computer veramente molto molto piccolino ovviamente ha la webcam integrata e solo HD va bene giusto per le conference call e non ha la ventola ma non scalda mai particolarmente è ovvio, se scaldasse non avrebbe quella durata di batteria il disco, il disco è un'unità allo stato solito SSD come vedete il benchmark non è fantastico ma devo dire che comunque la macchina gira bene e vi stavo parlando di batteria 10 ore con un utilizzo allora, stress e vi spiego perché stress ma non super stress perché qua non ci si possono fare rendering perché per esempio se io vado ad aprire la suite di Creative di Adobe, vedete Photoshop va Illustrator si, Acrobat si InDesign si, Bridge si ma per esempio non ci sono tutte quelle applicazioni che io utilizzo per il montaggio di video quindi non gira Premiere ma anche altre applicazioni per il montaggio di video non sono riuscito a farle girare e allora il limite è un po' quello perché la velocità c'è, la reattività c'è lo speed test è un po' basso rispetto al solito ma perché tutta questa inizio di recensione l'ho fatta con la connessione LTE guardate sì perché dentro a questo PC adesso mi collego in Wi-Fi Wi-Fi dual band purtroppo non c'è il Wi-Fi 6 ma l'ho fatta con l'LTE perché in questo sportellino qua si può mettere una SIM card purtroppo non ancora 5G ma comunque un 4G che arriva a 2 gigabit dove fa aggregazione quindi un 4G plus molto molto buono ma anche un'espansione di memoria quindi 256 di SSD che sono all'interno vabbè si possono espandere fino a un Tera e se mettete una micro SD veloce avrete praticamente un altro hard disk a disposizione vi stavo dicendo della tastiera che è retroilluminata ha il sensore di luminosità ma si può tranquillamente col tasto funzione andare ad accenderla o spegnerla vedete così sono al massimo della retroilluminazione qua c'è tanta luce ma mi piace perché ah la corsa è veramente bella ma soprattutto la spaziatura una tastiera sulla quale si scrive veramente con piacere e la retroilluminazione è verdina sì strano di solito è bianca la retroilluminazione qua c'è un verdino che con il tortora della tastiera sta bene sì sono architetto a volte queste piccole cose le vado a notare facciamo live un altro speed test adesso che siamo collegati al wifi vediamo un attimo live lo faccio vedere e vedete come il wifi sia performante ho visto delle schede MIMO integrate in altri laptop che mi hanno permesso di raggiungere 6-700 megabit per secondo ma comunque anche il wifi che è integrato in questo in questo book s non è assolutamente male e vi dicevo delle integrazioni samsung c'è l'applicazione dex che consente di collegare il vostro smartphone samsung direttamente al computer e proiettare qua l'interfaccia desktop dello smartphone e poi ci sono altre un altro paio di applicazioni c'è la galleria samsung quindi andando a loggarsi con il proprio account c'è anche la possibilità di vedere qua le fotografie che si hanno sul cloud quindi sincronizzate anche con lo smartphone e poi c'è anche samsung note stessa cosa tra l'altro se avete un note 10, 9, 8 quel che lei lo sincronizzate qua troverete anche le note scritte a mano come vedete è tutto veramente veloce reattivo anche se apro un'altra pagina che ne so andiamo sul corriere della sera anche se sicuramente mi gireranno le scatole non tanto per le statistiche non tanto per le polemiche sempre polemiche su tutte le cose e c'è immuni c'è una polemica c'è la statistica c'è la polemica vabbè chiudo e chi se ne frega chiudo anche dex chiudo tutto vado nelle impostazioni sì voglio chiuderlo vi faccio vedere le informazioni di sistema eccole qua con vedete ARM 64 bit ovviamente il processore e questo processore snapdragon questo SOC 8CX che mi è piaciuto veramente tanto vi dicevo del Surface Pro X che ho provato qualche settimana fa mi è piaciuto di più questo perché l'ho trovato più stabile l'ho trovato con una batteria che dura di più tra l'altro 42 watt ora il caricabatterie è questo non particolarmente potente 30 watt però esce con tipo C ci possiamo caricare qualsiasi device tipo C ci mette circa 2 ore a caricarsi ma qua la batteria veramente ha durato 8 barra 10 ore 10 reali ma soprattutto è quel plug and play always on che qua ho trovato più affidabile rispetto al Surface per quanto riguarda il form factor questo è un classico laptop e forse là c'è la criticità perché dovrei comprare un laptop sul quale alcune applicazioni ma direi la maggior parte soprattutto di quelle particolari specialistiche non girano la vera risposta è non lo so rispetto a un laptop standard con processori AMD o Intel quindi con piattaforma x86 questi con piattaforma ARM riescono ad essere più leggeri con una batteria che dura di più riescono ad essere always on il gioco va alla candela o forse è meglio un tablet con quel tipo di piattaforma che ha un utilizzo diverso non da pc secondo me è più la seconda perché perché semmai su un pc devo poter far girare tutto a meno che voi non abbiate la possibilità economica di prendere questo o comunque un altro pc con questo tipo di piattaforma come macchina secondaria magari avete già un fisso a casa magari le cose particolari i montaggi video li fate con quello e per andare in giro leggeri e senza portarvi il caricabatteria perché la batteria è super vi utilizzate uno di questi pc arm che ripeto mi sono piaciuti ma hanno quel limite delle app che rimane ancora un limite forse la considerazione finale è che se entro due anni arriveranno delle applicazioni dei programmi in grande quantità e praticamente diciamo il 90% dei programmi che girano sul mercato perché per esempio anche autocad qua non ci gira molti giochi non ci girano e si arriveranno e saranno ottimizzati allora sarà un successo perché ha delle buone armi diciamo da sfoderare se invece non arriveranno secondo me purtroppo sarà un po' un flop come quel Windows Mobile che era un ottimo sito operativo ma non sono arrivate le app e quindi è defunto un saluto da andreagaleazzi.com comunque un gran bel pezzo di hardware eh sì Andrea ma ciao de che non ci hai detto il prezzo che poi ti ha portato a fare tutte le considerazioni che hai fatto 1099 euro sicuramente li vale per come costruito per come leggero ingegnerizzato però rimane sempre quello che ho detto prima la compatibilità con le app scelte per ora una scelta a vostro rischio in base a che applicazioni utilizzate riciao che ho Grazie a tutti